Ok, lo so sono 3 o 4 giorni circa che non carichiamo un fottutissimo video sul canale Però ragazzi questo è stato un fine settimana impicciatissimo in cui non abbiamo avuto tempo neanche di andare al bagno a cacare E stiamo scleratissimi Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale Dunque ragazzi questo è un piccolo vlog d'aggiornamento perché settimana prossima, ovvero già lunedì oggi raga Quindi questa settimana ragazzi arriveranno una serie di video Tra cui il faccio di time natalizio con Dana Il vlog del mio Natale L'Italys Crisis che registreremo questa sera ma non al presidio ma alla... non so come definirla Alla riunione che hanno detto quelli del comitato non discarica Magliano, l'ex mattatoio di Magliano Romano E se tutto va bene, previ impegni e soprattutto imprevisti Il 25 avrete lo speciale di Natale Detto questo ragazzi il video è finito, lasciate un like, un commento e ci vediamo alla prossima Bella Bella